E con queste due mani unite introduciamo Giorgia Meloni che si è commossa, mi pare, mentre vedeva questo film. Speravo che non me ne foste accorti, non ero inquadrata. Insomma è anche bello commuoversi, insomma prima di tornare alle durezze della politica. Allora stasera Conte ha in qualche modo, e vedremo fino a che punto, ricompattato la maggioranza dicendo non ci dividiamo in tifoserie. Io voglio studiare questo meccanismo europeo di stabilità, vedere se è una cosa vessatoria e poi in qualche modo decidere. Allora ricordiamo, dall'Eurogruppo è venuta fuori la disponibilità della gombriccola di darci fino al 2% il nostro prodotto, di prestarci, come dice giustamente l'onorevole Meloni. Non è un regalo, tutti questi soldi sono tutti in prestito ovviamente. Circa il 2% il nostro prodotto interno lordo, che è intorno a 1.800 miliardi, quindi 36-37 miliardi. Senza clausole, quindi praticamente senza condizionalità, come dicono qui, non ci dovrebbero venire a guardare i conti in casa. Questi soldi servirebbero a finanziare le spese dirette e indirette sanitarie. Allora, l'onorevole Meloni, perché ha paura che ci sia dietro una trappola? Allora, direttore Guardi, io credo intanto che la cosa non sia vantaggiosa come viene raccontata, perché appunto la ringrazio per aver specificato che qui si parla di un prestito, perché da come la sentiamo raccontare in questi giorni pare che l'Europa ci voglia regalare 36 miliardi e allora voglio dire ufficialmente che se l'Europa ci volesse regalare 36 miliardi io me li prenderei. Ma l'Europa non ci regala 36 miliardi, l'Europa ci dà un prestito da 36 miliardi sul quale noi ovviamente pagheremo degli interessi. Ora, per intenderci però, noi ci abbiamo messo i soldi nel MES, quindi per spiegarla ai cittadini che ci guardano la casa, è come se io andassi in banca, dessi alla banca 15 mila euro e la banca in cambio mi desse 36 mila euro che io devo restituire tutti e 36 mila con gli interessi. Quindi alla fine gli hanno dati 15 più 36, chiaro? Non mi sembra così vantaggioso. Primo. Secondo. Comunque in ogni caso ovviamente non è vero che non ci sono condizioni, perché i prestiti hanno delle condizioni, direttore come lei sa benissimo. Intanto ci sono gli interessi. E in secondo luogo che succede se io non restituisco i soldi o se non li restituisco nei tempi in cui li dovrei restituire? Semplice. Ci vengono a guardare i conti. Cioè il famoso commissariamento dell'economia da parte della troica, del MES stesso, eccetera, è comunque possibile. Terzo. Io continuo a ritenere che al di là della linea di finanziamento a condizioni leggere, il fatto di avere il Fondo Salva Stati tra le possibilità per affrontare l'emergenza coronavirus in assenza di strumenti per noi vantaggiosi come ad esempio gli euro bond, è comunque un modo di stringere il cappio intorno al nostro collo. Perché se noi abbiamo il MES e non abbiamo gli euro bond, che succede se ad esempio domani, non lo so, avessimo dei problemi con gli spread o la Banca Centrale Europea dovesse improvvisamente decidere di non fare più una politica monetaria espansiva, quindi non comprare più i titoli di Stato? Accadrebbe che noi avremmo solamente la possibilità del Fondo Salva Stati con condizionalità. Quindi io dico che il documento sottoscritto, diciamo sul quale Gualtieri ha dato l'ok e che Conte si trova davanti al Consiglio Europeo è un documento assolutamente non vantaggioso per l'Italia. Conte dal mio punto di vista non dovrebbe firmare nulla che non prevedesse A. gli euro bond e B. un ruolo completamente diverso per la Banca Centrale Europea che si deve comportare come si stanno comportando tutte le banche centrali del mondo. Allora però per correttezza dobbiamo ricordare che Gualtieri che è stato ospite nostro ieri sera non ha firmato niente insomma. Ha dato l'ok, ha dato l'ok, firmare è l'unica diciamo parola sulla quale effettivamente abbiamo detto una cosa inesatta. Ha dato il suo ok. Poi io non so come l'Eurogruppo decida di dare il suo ok sui documenti ma c'è l'ok del ministro Gualtieri e del governo italiano sulla bozza che esce dall'Eurogruppo e che arriva al Consiglio Europeo che Conte può chiaramente disconoscere ed è quello che ci aspettiamo per faccia dopo le conferenze stampa che ha fatto. Devo dirle che mi dispiace molto che oggi sulla richiesta di Fratelli d'Italia sulla quale abbiamo chiesto che Conte venisse in Parlamento prima di andare al Consiglio Europeo come solitamente accade attaccandosi sostanzialmente al principio secondo il quale questo Consiglio Europeo non sarebbe formale Conte decide di non accettare un voto parlamentare mentre accettare un voto parlamentare su questa materia secondo me sarebbe stato un fatto di chiarezza dottor Vespa. Intanto ognuno si assume le proprie responsabilità e poi avrebbe rafforzato il ruolo di Conte al Consiglio Europeo perché guardi una cosa voglio dire, solamente una, della conferenza stampa di Conte la settimana scorsa il resto l'abbiamo già detto, non è vero che noi abbiamo indebolito l'Italia in questa trattativa è proprio grazie al lavoro che stiamo facendo noi, anche accendendo i riflettori e mettendo allerta all'opinione pubblica che Conte può con maggiore forza andare al Consiglio Europeo a rivendicare quello di cui l'Italia ha bisogno quindi noi non abbiamo indebolito la posizione italiana, questo non lo faremmo mai, noi l'abbiamo rafforzata ora bisogna capire se Conte è in grado di utilizzare questo strumento che gli abbiamo offerto. Onorevole Meloni, ma quale forza avrebbe avuto il Presidente del Consiglio se su questo tema due componenti del Governo, e cioè il Movimento 5 Stelle e dall'altro lato il Partito Democratico la pensano in maniera opposta? appunto, gli abbiamo dato una mano dall'opposizione, gli vogliamo dare una mano dall'opposizione a farsi votare, una cosa di questo genere però Conte non dovrebbe fare le conferenze stampa contro di noi per nascondere le difficoltà nella sua maggioranza perché noi stiamo tentando di dargli una mano, questo sto dicendo stasera lui ha detto, adesso mi guardo le carte allora, Antonio Polito, Vice-elettore del Corriere della Sera, buonasera Antonio allora qui ci troviamo, adesso stasera Franceschini subito si è affrettato a dire la posizione di Conte è giusta il Movimento 5 Stelle, noi stiamo con Conte, quindi non è successo niente, sono tutti d'accordo sul fatto che Conte studia e poi decide però allo Stato c'è il Movimento 5 Stelle insieme con la Lega e con Fratelli d'Italia dall'altro lato c'è il Partito Democratico, c'è Italia Viva di Renzi e c'è Silvio Berlusconi che sta succedendo? e c'è la Confindustria e c'è la Confindustria beh, sono completamente saltati come era forse prevedibile tutte le divisioni politiche tradizionali e credo che ne vedremo ancora delle belle perché la vicenda politica quando finirà l'emergenza sanitaria sarà molto attiva intanto bisogna dire una cosa che Conte stasera ha detto una cosa molto nuova rispetto alle posizioni che ha avuto fino ad ora e che erano paradossalmente più vicine ai desiderata dell'onorevole Meloni perché finora Conte aveva detto non li useremo li abbiamo approvati soltanto perché c'è qualcun altro che li vuole usare tipo gli spagnoli, portoghesi che sono con noi nella battaglia sugli Eurobond e quindi non abbiamo ostacoli ma abbiamo detto noi non li usiamo invece stasera ha detto vediamo vediamo come esce alla fine della trattativa questo contratto queste condizioni del finanziamento e poi decideremo il che è chiaramente una mano tesa al PD il quale nelle ultime ore aveva insieme a Berlusconi come giustamente hanno dato te insistito per dire ma perché dobbiamo rifiutare 36 miliardi che certo prendiamo a prestito onorevole Meloni però tutti li prenderemo a prestito anche se non li prendiamo da lì li dobbiamo prendere in mercati e sui mercati potrebbero costarci anzi sicuramente ci costerebbero un po' di più questi li potremmo riprendere? sì sì ma voglio dire 15 miliardi di soldi nostri nel mese ci sono 15 miliardi di soldi nostri e noi potremmo riprendere senza dover pagare tassi di interessi a nessuno ma infatti la vera discussione da fare è capire che quanto dobbiamo versare per avere quei 36 miliardi perché finora il fondo ha una dotazione di 80 miliardi quindi limitata se li chiediamo tutti 36 miliardi o giù di lì quegli 80 miliardi non costerebbero quindi forse bisognerebbe versare qualche altra cosa tutto questo è vero e va visto nel dettaglio perché come si dice il diavolo è dei dettagli quindi alla fine saremo noi che dovremmo mettere altri soldi nel fondo salvastati e non il fondo salvastati che dà dei soldi o si prendono con le tasse credo che nessuno li voglia prendere con le tasse o si prendono in prestito e ce ne serviranno ben più di 36 miliardi quindi è bene che cominciamo a ragionare su dove ci conviene prenderli io vorrei però capire siccome siamo andati noi altri a rivederci le carte e è possibile forse che per stare tranquilli ammesso che decidessimo di prenderceli bisognerebbe forse ridiscutere l'intero trattato perché io qui ho una nota del senato del 2013 quando entrò poi in vigore che dice il regolamento prevede la sorveglianza automatica per i paesi che ricevano aiuti finanziari dai fondi salvastati costituiti a livelli internazionali gli stati membri sottoposti a sorveglianza devono adottare misure sufficienti per fronteggiare le fonti di instabilità e mettere a disposizione della commissione elementi informativi rafforzati per lo svolgimento di opportune analisi questo secondo me è quello di cui ha paura onorevole Meloni e io poi vado all'articolo 7 del trattato che dice al momento di elaborare i programmi di aggiornamento macroeconomico dovrebbero essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni rivolte allo stato membro nella procedura per i disavanzi eccessivi e nella procedura per gli eccessivi squilibri macroeconomici di questo ho paura onorevole Meloni assolutamente sì ho paura esattamente di questo tra l'altro guardi aggiungo un elemento stasera in questa sua nuova posizione perché il presidente Conte ci pareva che sapesse esattamente di che cosa parlava quando ha fatto la conferenza stampa il venerdì scorso rispondendo alle nostre presunte mezzogne oggi dice me lo devo leggere vi faccio sapere che ne penso e nel dirlo dice vedremo alla fine se ci sono o non ci sono delle condizionalità e questo scusi Vespa è una cosa ancora diversa da quella della quale noi stiamo parlando adesso perché noi in tutti questi giorni abbiamo parlato di una presunta nuova linea di finanziamento appunto con condizionalità leggere perché come dicevamo le condizionalità ci sono sempre e invece oggi Conte dice ancora un'altra cosa quindi mi pare che si stia facendo un po' un gioco delle tre carte ok però noi dobbiamo sapere che diciamo a livello europeo storicamente ci sono delle nazioni che hanno avuto dei vantaggi dall'Unione Europea e segnatamente dall'Euro che vogliono rafforzare in questa fase o così sembrano essersi comportate questo loro vantaggio e penso che noi dobbiamo dall'altra parte decidere se oggi l'Europa esiste oppure no perché io penso che l'Italia oggi abbia un potere contratuale molto forte nel Consiglio Europeo ce l'ha soprattutto perché tutti si rendono conto che oggi con la Gran Bretagna che è uscita senza Italia l'Europa non esiste più diventa una grande Germania che schiaccia anche la Francia e questo spiega la posizione diciamo complessa della Francia di questi ultimi giorni quindi oggi Conte ha volendo un potere contrattuale fortissimo per andare in Europa e dire noi vogliamo strumenti seri di solidarietà e di diciamo condivisione europea qual è quello strumento serio? perché nel documento dell'Eurogruppo c'è scritto di questo recovery fund di questo fondo di ripresa che è la cosa che interessa a noi che però non si capisce cosa sia non viene specificato niente soprattutto non si capisce né quando ce lo danno né quanti soldi sono esatto e né come li troviamo e né come li troviamo che è la cosa importante perché se poi fosse un altro fondo dove gli stati devono mettere i soldi e poi forse ti ridiamo i soldi tuoi con gli interessi io avrei qualcosa da dire se invece ci fossero gli euro bond a finanziare un fondo del genere io penso che serva un fondo di ripresa da mille miliardi serio finanziato con gli euro bond e penso che questo debba andarlo a chiedere Conte così come dicevo credo che Conte debba andare a chiedere un ruolo completamente diverso per la banca centrale europea perché segnalo che in tutto il mondo le banche centrali in questo momento stanno stampando soldi comprando titoli di Stato illimitatamente guardiamo la Banco of England non andiamo lontano Banco of England stampa moneta compra titoli di Stato illimitati e ha aperto addirittura una linea di credito diretta con il tesoro cioè direttamente i soldi allo Stato noi invece abbiamo una banca centrale europea che per volontà dei tedeschi e dei loro stati satellite serve solamente a tenere sotto controllo l'inflazione della moneta e noi questa roba qui in questo momento non ce la possiamo più permettere per cui dobbiamo chiedere che la BCE faccia quello che sta facendo Banco of England e non è una concessione perché Vespa noi deteniamo il 14% della banca centrale europea non è che la banca centrale europea ci deve fare una concessione è anche roba nostra è anche la nostra banca centrale questo sarebbe il famoso prestatore di ultima istanza come la banca centrale americana come la banca centrale giapponese e certo però deve cambiare natura forse sarebbe opportuno che la cambiasse ma deve cambiare natura comunque ripeto Conte dice prima voglio accertarmi che non ci siano condizioni vessatorie di nessun tipo quindi mette in dubbio mentre fino adesso davamo per scontato che non ci fossero dice lui lo vuole verificare dopodiché voglio vedere con attenzione il regolamento contrattuale che condiziona l'erogazione delle somme e quindi che non ci diano una fregatura con quest'altra trausa a proposito di prestiti una parentesi per favore molte persone avevano capito che i 25 mila euro agli artigiani ai professionisti alle partite IVA fossero una cosa più o meno automatica in realtà qualcuno è andato in banca e ha avuto una cattiva sorpresa non sono 25 mila euro è il 25% del fatturato dello scorso anno fino a 25 mila euro quindi 25 mila euro li può prendere solo chi ha fatturato almeno 100 mila euro questo perché tutti quanti erano convinti di prendersi i 25 se uno ha fatturato 50 mila euro se ne prende la metà se prende 12 mila euro e 500 che poi dovrà appunto restituire però lì in effetti quindi stiamo attenti che non è proprio tutta questa bisogna aver raggiunto un minimo di fatturato per avere questa somma allora andiamo a vedere adesso quanto ci sta costando in tanti settori questa lunga inattività per esempio Orio Alzerio siamo andati a Orio Alzerio l'aeroporto diciamo di Bergamo è il terzo scalo italiano che è fermo che ci portava turisti da tutto il mondo è andato a vedere già Carla Runghinelli pochi luoghi parlano del dramma che stiamo vivendo come un aeroporto vuoto questo fermo macchine che è immortale aerei delle gru, degli scavi nella posizione dove tutto è rimasto un mese fa l'aeroporto di Orio Alzerio si incassano e soprattutto non c'è una previsione su quando potranno ritornare in qualche modo operative e con quale modello di operatività tra l'altro anche questo è totalmente incerto quindi stiamo cercando di capire come minimizzare i disagi come minimizzare i costi sia per la società di gestione che per i passaggeri riapertura che secondo lei quando potrebbe avvenire? questo momento veramente sfera di cristallo perché come dicevo il trasporto aereo è formato da una filiera di aziende l'aeroporto si occupa di tutte le attività a terra quindi bisognerà intanto capire come e quando i vettori aerei potranno tornare in esercizio noi immaginiamo che in Italia si possano cominciare ad operare dei voli domestici che tra l'altro sono fondamentali per riprendere attività economiche pensiamo al turismo, pensiamo a come è fatto il nostro paese i collegamenti fra nord e sud Italia abbiamo bisogno di indicazioni dagli esperti sanitari su quali saranno le cose da fare per garantire la sicurezza i cantieri in un aeroporto ce ne sono sempre stiamo verificando quali di questi cantieri ancora sono ascrivibili a questa nuova normalità che ci aspettiamo e quali dovranno essere ripensati Onorevole Meloni la regione Lombardia chiede di poter fare le riaperture dal 4 di maggio il Veneto già si è portato avanti alcune regioni del sud, visto che non hanno contagio e tutta la Basilicata vuole riaprire subito le spiagge secondo lei, se lei fosse al governo, sulle riaperture come si regolerebbe? Ma guardi, io non ho gli elementi per risponderle in modo serio a questa domanda dottor Vespa, perché sono una persona che su queste cose non si mette a fare propaganda io non ho la fortuna, la possibilità di confrontarmi con gli esperti con i quali il governo parla ogni giorno e penso che alla fine siano loro a doverci dire a grandi linee quali sono le curve che cosa si può e si deve fare poi noi alcune proposte le abbiamo fatte su come si possa fare a riaprire il prima possibile senza vanificare gli sforzi che abbiamo fatto perché quello di cui discutevamo significa che abbiamo in queste settimane, ce lo dobbiamo ricordare bruciato qualche decina di miliardo di euro e quindi l'unica cosa che proprio non ci possiamo permettere è vanificare quegli sforzi noi per esempio quando abbiamo letto che l'Istituto Superiore di Sanità stava portando avanti un utilizzo diciamo a tappeto su larga scala dei test sierologici che sono test che ti permettono di avere delle risposte più o meno subito e che ti possono dare subito una patente di immunità abbiamo presentato gli emendamenti delle proposte per testare a tappeto tutta la popolazione perché è ovvio che se già tiri fuori tutte le persone che hanno maturato gli anticorpi e che sono diventati immune intanto quelle persone sono tutte persone che tu immediatamente puoi rimettere a lavorare e comunque ti consente di isolare eventuali focolai di individuare dove siano però io così posso dire che bisogna muoverci poi le dico la cosa più banale del mondo bisogna riaprire il prima possibile senza però vanificare gli sforzi e qui gli elementi io non li ho e quando si riapre secondo me non bisogna farlo discriminando alcune categorie ho letto ma non so se siano reali delle ipotesi di riapertura per cui alcuni esercizi riaprono prima alcuni esercizi riaprono dopo attenzione perché ci sono intere filiere che noi rischiamo di distruggere per esempio ho letto che mentre appunto molti riaprono qualcuno ha già riaperto altri riaprono il 3 maggio magari allora le palestre piuttosto che i parrucchieri piuttosto che i centri estetici vanno a giugno penso che tutti quelli che possono garantire le distanze possono garantire la sicurezza dei loro clienti debbano poter riaprire e più noi riusciamo a rimettere le persone a lavorare meglio è certo poi scusi se faccio mezzo passo indietro bisogna anche aiutarle queste persone queste attività lei prima citava il decreto liquidità una cosa va detta a noi hanno detto che ci sono 750 miliardi di risorse che vengono generate 350 con il decreto cura Italia e 400 con il decreto liquidità lei sa attualmente quanti soldi ci sono sul decreto liquidità? un miliardo uno adesso poi vedremo vedremo anche come si comporteranno le banche cioè il decreto liquidità ad oggi manca di liquidità ok? e secondo me la soluzione di indebitare tutti a tutti i livelli non è la migliore io penso che bisogna ragionare di una quota di questi soldi data a fondo perduto perché ci sono attività che non hanno neanche la possibilità oggi di restituire quei debiti una piccola quota a fondo perduto il governo la deve secondo me immaginare ma infatti di questo si sta discutendo e da parecchie parti Confindustria e Confcommercio insistono perché sennò avremo una qualità soprattutto nel settore turistico nel settore ristorazione nel settore alberghiero un sacco di attività che rischiano veramente di non riaprire tornando poi di riapertura e di sieri parleremo con il professor Taro ma intanto tornando alla politica Antonio Polito secondo te questa distinzione che c'è stata adesso questa spaccatura che c'è stata sia nella maggioranza sia nell'opposizione lascia immaginare che possa succedere qualche cosa di non voglio usare perché sennò gli strigli dell'onorevole Meloni arriveranno chissà dove non voglio parlare di governi di unità nazionale ma secondo te porteranno a qualche cambiamento cioè Conte deve stare meno tranquillo in prospettiva è beh dipende molto anche dall'onorevole Meloni a quanto ne so nel senso che nella posizione sua e di Salvini c'è una contraddizione a mio modo di vedere perché da un lato si ritiene questo governo e questo premier non adatto a gestire la fase di ricostruzione soprattutto che sarà effettivamente una cosa storica però dall'altra parte una volta caduto questo governo che cosa si fa? se la Meloni e anche Salvini un po' meno onettamente escludono così radicalmente una soluzione di governo istituzionale o di unità nazionale di fatto aiutano a tenere in piedi il governo che loro credono non in grado di gestire questa fase diciamo che la situazione è molto in bilico perché il governo già non era molto forte politicamente prima che cominciasse questa emergenza diciamo anche che l'emergenza non è andata benissimo in Italia per ragioni complesse difficili da attribuire ai torti c'è anche la regione Lombardia molto sotto accusa quindi insomma è difficile però certamente non è che abbiamo fatto due mesi diciamo così alla tedesca per usare un'espressione che spesso si usa dove invece i morti sono stati molto limitati l'epidemia è stata tenuta più sotto controllo quindi è chiaro che quando arriverà il momento in cui diciamo così bisogna fare le scelte anche le scelte di investimento di soldi chi privilegiare dove investire che cosa fare lo scontro politico salirà di livello e non so se questo governo può reggere a un passaggio del genere ma siccome non sono possibili le elezioni stavolta neanche diciamo così praticamente perché non si può andare in fila le urne vorrei capire che cosa potrebbe succedere a questo governo secondo l'onorevole Meloni ma guardi io penso che noi dobbiamo distinguere la fase dell'emergenza dalla fase della ricostruzione nella fase dell'emergenza di questo abbiamo anche già parlato la fase dell'emergenza io ho sempre ritenuto che questo governo avesse un problema diciamo di debolezza avevo proposto la nomina di un commissario straordinario vero proposta dall'inizio non siamo stati ascoltati non sono stata ascoltata poi oggi segnalo che questo governo si è dotato tra task force varie di circa credo 120 persone Parlamento lavora una volta a settimana mille persone pagate profumatamente agli italiani per fare poco niente in compenso abbiamo altre 120 persone che coadiuvano il governo sono molto incuriosita da questa task force capitanata da Colao perché non mi è chiaro anche quella esattamente che cosa parliamo o per carità di un'altra 20 persone che ogni tanto ascoltiamo che però chiaramente possono avere purtroppo insomma un ruolo non particolarmente significativo oppure oppure no qualcuno pagheggia che possa essere altro e allora vorrei capire di che parliamo perché già io non ero convinta diciamo di un presidente del consiglio coniglio dal cilindro ma adesso l'ammaestratore del coniglio del cilindro mi pare che veramente no cioè la democrazia si stia un po' perdendo allora nella fase dell'emergenza io credo che la soluzione fosse nominare un commissario vero all'emergenza la fase della ricostruzione però signori non è una cosa di pochi mesi è una cosa di anni e il mio problema non è che io io sicuramente penso che Conte non sia in grado ad affrontarla ma credo che questo Parlamento abbia una difficoltà ad affrontare l'emergenza perché è un Parlamento nel quale non esistono maggioranze coese che abbiano una visione comune sulla quale lavorare e siccome la ricostruzione richiede anni io invece su questo non sono d'accordo col direttore Polito penso che sia più agevole appena sarà possibile magari in autunno non lo so ragionare di elezioni e chiedere agli italiani con quale visione economica vogliano ricostruire per i prossimi cinque anni e poi dare la possibilità a un governo nel quale ci sia una maggioranza coesa e non frutto di gente che fino al giorno prima si sputava in faccia che possa lavorare e dare risposte all'Italia secondo me la democrazia è sempre la soluzione migliore grazie onorevole Meloni e buon lavoro e andiamo adesso dal professor Tari